Dal 1972 al 31 dicembre 2015, l'Abruzzo aveva promulgato 3.508 leggi, arrivate oggi a 2.830, grazie all'abrogazione nel corso degli anni, di 678. Un numero tuttora ingente se si pensa che il Trentino Alto Adige ne conta solo 517, risultando regione virtuosa e snella burocraticamente. È il Movimento 5 Stelle a portare sul tavolo la classifica delle regioni più intrappolate a livello legislativo. C'è un testo unico sul commercio che attende di essere approvato da quando ci siamo insediati e che ancora non è approvato, penso all'urbanistica che è una materia vastissima e di difficile consultazione che certamente sarebbe aiutata da un testo unico. Tra le proposte dei 5 Stelle volte a garantire omogeneità, chiarezza e semplicità ci sono un provvedimento taglia leggi, l'istituzionalizzazione di un provvedimento di manutenzione normativa che non lasci diventare obsolete le leggi esistenti e infine un riordino generale che preveda anche testi unici su temi quali agricoltura, ambiente, commercio, urbanistica, edilizia, turismo, welfare e nomine. La regione Abruzzo, gli abruzzesi e le imprese abruzzesi sono sottoposti in media al doppio delle leggi rispetto ai cittadini e alle imprese delle altre regioni. Evidentemente la regione facile e veloce che il Presidente D'Alfonso prometteva in campagna elettorale non si è ancora vista e non la vediamo nemmeno all'orizzonte. Quello che chiediamo è un riordino di tutta la legislazione abruzzese con un provvedimento taglia leggi in modo tale da ripulire l'ordinamento regionale da tutte quelle leggi obsolete che sono però ancora in vigore, che ingolfano tutti i procedimenti e che molto spesso creano anche contenziosi. Chiediamo inoltre la redazione una volta per tutte di tanti testi unici in modo tale da avere per ogni materia, per ogni competenza, un'unica legge completa e di facile consultazione. Grazie a tutti.